Dio solo sa quanti argante ha prodotto questa pandemia, quante persone ormai rinunciano ad uscire, a frequentare i ristoranti, a frequentare i teatri, i cinema, a frequentare gli amici, le piazze, le passeggiate per paura. Perché uno muore? Perché uno muore? Ecco qua, ti scoppiano le coronari, per forza! Non esiste soltanto la pandemia della malattia, esiste senz'altro anche un altro tipo di pandemia che è la pandemia della paura. La paura è un virus che si trasmette e fa tanti danni, altrettanto quanto i virus blocca società intere. La paura può bloccare un popolo, una nazione, può farla regredire culturalmente di tanti anni, perciò io ne ho paura. Io penso una cosa, la vita va coltivata, quindi va coltivato il desiderio di viverla. Se tu non vai a teatro per tanto tempo e disincentivi questo tuo desiderio, alla fine puoi anche arrivare alla conclusione che in fin dei conti si può vivere anche così.